Presidente, questo è un patto che rappresenta un segnale, non solo per questa regione ma anche per l'Italia, perché non è appena un patto per la crescita economica. Credo possiamo essere molto soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto, perché qui c'è una scelta di tutto il sistema sociale, imprenditoriale, economico e istituzionale di questa regione che dice che dobbiamo affrontare insieme i temi della crescita inclusiva e sostenibile, del lavoro ai giovani, della sostenibilità e dei servizi per i cittadini, facendo uno sforzo di lavoro comune e responsabilmente dicendo che questi obiettivi sono gli obiettivi di tutti. E' un dato molto importante in una situazione così difficile per l'Emilia Romagna e per l'Italia e per l'Europa. Io credo che sia un segnale politico di grande significato non solo per noi ma per tutto il Paese. Ne ha parlato di parole chiave che sono non solo quantità ma anche qualità in questo patto. Assolutamente qualità, qualità per costruire un nuovo modello di sviluppo compatibile nella direzione di Europa 2020, qualità per dare futuro alle nuove generazioni, per la stabilizzazione e il contrasto alla precarietà, qualità nelle relazioni industriali per riuscire a governare un processo così difficile, qualità ambientale per un'economia sostenibile, qualità sociale per un sistema di welfare che sia in grato di garantire l'universalità nell'accesso e la qualità dei servizi. Credo che siano obiettivi molto importanti a cui si affiancano l'impegno della Regione a continuare la politica di riduzione dei costi, l'impegno sulla semplificazione, approveremo una legge nelle prossime settimane in Assemblea, si tratta di un lavoro di grande significato che viene da un'esperienza molto positiva del patto per attraversare la crisi che ci ha consentito di salvare migliaia e migliaia di posti di lavoro e che oggi si pone obiettivi per dare una prospettiva e un futuro alla nostra economia.